C'era tanto copo e fuoco, un postore di una casa via Torriano, io beria l'urse e t'aspuleava, perché non c'aveva a bere l'urse, ma che uno stia a pescare l'urse addomato con la cannella, che non c'aveva a bere l'urse all'interno. E c'era un copo fuoco. Arrobatò un gesto raro, non si poteva circolare, facciamo parla che era regi in poi, che regi in poi ci avessero un motivo, avessero autorizzato per circolare. E che c'era? Bombardamenti? Bombardamenti ancora negli anni 40, 41, 42, negli altri non c'erano. Comenzarono a mettere la 42, perché si sentivano l'aereo, si sentivano che stavano bombe, stavano a 43 primi trasi americani, c'erano i miei nei stati, fruttavano i cuffi e non costavano roba. E allora, per un paio di tasse delle alleate, avevano fatto salutare gli stati, no? Mentre allora c'erano Marasciallo, ma lo vedo se c'era De Mauro, o Mauro, Mauro o De Mauro, ma la caccia era assoluta, la rispondazione non le fece salutare. E niente, non avevamo aiuto, non avevamo aiuto, non avevamo aiuto, con la famiglia, tutte, non avevamo aiuto. Mentre c'era uno su Danemi e c'era, non avevano un capo a morire. E c'era casa, non avevano un capo a cani neutro, non avevano un nevolo dentro la ruta. E' un'altra campamarelle di Barattil, e non avevamo il paese. Poi stavano contando tre femmine, che avevano un'iardina, che è mano, mentre va a fare un'aere a Baruna, che ci poteva salire come un terremoto, ma non c'era di nome. Va a fare, e quindi si poteva un'acqua a Monterra, e gli iardini non l'avevano manco attaccato e ci scapparono gli iardini. E noi riportiamo la casa, passiamo un'ottata a Regno, e poi l'endomani ne escemo. Questo fu il 9 giugno, o il 9 luglio. Ora di luglio vennerà l'Americano, io mi ero a Giazza, i Wittekmener. E lei quant'anni aveva quando vennerà? a Maragano, io non vanno via. E come fu? Beh, poi mi va arrivare a Maragano, le carose ne abbiavano i caramelli, i cioccolatini, erano e ci abbiavano i sigarette. Ci abbiavano... Mano a mano io, ma invece non è una jeep, eh! Mi fece raccionare, mi fecevano una jeep, e poi mi scendero, asciutto il paese. L'auto diceva, ora ti portano il corretto, e poi a me ti portano il corretto, e poi mi fecevano scendere. Mi fecevano una gala.